codice caravaggio il sole nero è il titolo del nuovo seminario per anima edizioni anima tv in cui andremo ad approfondire il messaggio segreto di michelangelo merisi il pittore maledetto il pittore invece benedetto dal genio delle arti benedetto da una luce e da una tenebra che formano un'armonia un linguaggio unico universale che trascende il tempo trovarsi di fronte a un'opera di caravaggio significa trovarsi di fronte all'anima di caravaggio e contemplare un dipinto di caravaggio è una comunione di anime un dialogo nell'eterno presente è la magia della pittura la magia di chi ama e contempla l'arte per il suo vero messaggio originale l'arte è mezzo è medium di qualcosa che trascende dall'assoluto il pittore si fa mezzo e caravaggio è un pittore dannatamente benedetto dall'arte dalla conoscenza sacra dall'agnosi quindi andremo a scoprire un messaggio che non viene raccontato dalla storia dell'arte ufficiale è un messaggio che parla di alchimia parla di esoterismo parla di ermetismo di cabalà quindi è un linguaggio per gli adepti per gli iniziati è un linguaggio che ci porterà le sue origini alle radici dell'esistenza dell'essere umano al culto che è solare è notturno lunare ci sono cose che affondano le radici nell'archetipo dell'uomo e caravaggio veicola attraverso l'energia i colori i messaggi che inserisce nei suoi dipinti qualcosa che è totalmente nuovo sconosciuto non aspettatevi lezioni di storia dell'arte perché non è storia dell'arte è storia dell'uomo è storia dell'essere umano messa attraverso il geniale linguaggio dell'enigma e dell'immagine vi aspetto al seminario codice caravaggio il sole nero a presto grazie a tutti